Il nuovo che avanza la linea verde anche nel canottaggio, questo sport che ha sempre regalato medaglie ai campionati mondiali e ai campionati europei, ma anche e soprattutto alle Olimpiadi dagli Abbagnale in su, perché anche ai tempi di oggi sono tanti i campioni da Borsano alla Sicilia che danno lustro e medaglie e successi alla nostra Italia. Noi parliamo con due ragazzi che andranno a fare il mondiale Under 23 dalla 7 all'11 di luglio in Repubblica cieca e diamo la buonasera a Silvia Crosio, ciao Silvia e a Nunzio di Colandrea, ciao Nunzio. Buonasera. Allora, entrambi i classi, aspetta che non voglio fare una gaff, 99, ho letto, Silvia viene da Torino, Nunzio viene da Pozzuoli, quindi diciamo due realtà ben note. Allora, voi siete in collegiale a Piediluco, partite praticamente tra pochissimi giorni, che appuntamento è, che tappa è della vostra vita professionale? Diamo precedenza a Silvia. Beh, sicuramente è un anno importante perché per entrambi è l'ultimo anno Under 23, quindi si chiude un po' il percorso nelle categorie giovanili e poi dopo si vedrà cosa si riuscirà a fare tra i senior. Nunzio? Diciamo che questo è il punto più cruciale che aspettiamo con ansia da tutta la stagione perché è qui che raccogliamo i frutti di un inverno, di una preparazione iniziata a settembre fino a domani, dopodomani che partiamo. E come diceva Silvia, è l'ultimo anno Under 23 e quindi cerchiamo di chiudere al meglio questo cerchio per poi tenerci pronti all'annata senior che ci aspetta l'anno prossimo. Senti ragazzi, quanto è difficile preparare un evento così importante dopo tanti mesi comunque di assenza dalle gare che contano per via del Covid, di allenamenti a secco? Silvia? È comunque difficile perché è due anni che non si svolge il mondiale alla fine. L'anno scorso abbiamo potuto fare l'europeo che è stato comunque un'occasione di confronto ma il mondiale è una cosa che è mancata e è difficile prepararlo. Quest'anno siamo riusciti a prepararci bene perché abbiamo potuto uscire in barca e tutto, però l'anno scorso è stato difficile da affrontare per tutti. Nunzio? Senza fare gare contro gli altri compagni che facciamo durante l'anno, senza uscire in barca, senza avere una preparazione come quest'anno che stiamo avendo per il mondiale, è abbastanza difficile. Diciamo, come ha detto Silvia, siamo stati fortunati l'anno scorso che c'è stato l'europeo e che ci ha aiutato un po' anche a stimolarci e andare avanti con la preparazione. Però è stato anche un po' abbastanza difficile. Senti Silvia, vieni da una serie di successi sicuramente, i pesi leggeri, 4 di coppia anche nel doppio nel 2018-2019, insomma si è andata subito a bersaglio, tanti odi, ecco, questo porta, vincere aiuta a vincere, no? Una frase fatta, ma secondo te è veramente così, anche la giusta mentalità ti aiuta o nelle categorie magari junior, non lo so, ipotizzo, e meno, le barche italiane spiccano di più per tecnica, per competenza. Ecco, questi successi, insomma, cosa sono derivati? Qual è il segreto di questi successi? L'allenamento di sicuro, però vincere, è vero, stimola sempre di più a porsi nuovi obiettivi. Gli anni scorsi sono sempre stata su una barca multipla e quest'anno invece carreggerò in singolo, quindi una nuova sfida sicuramente. Cambia il mondo o te cambia? Eh sì, cambia tutto, però si proverà a fare bene anche quest'anno, vedremo cosa verrà fuori. Io lo ricordo perché 4 di coppia nel 2019, oro ai mondiali, sempre oro in doppio nel 2018, poi categoria pesi leggeri, 4 di coppia, un altro oro. Lo scorso anno, 2020, abbiamo detto gli europei, primo è il doppio, primo è il 4 di coppia, insomma, non è male, però per par condicio, perché non è che dall'altra parte non si ho fatto niente, assolutamente, andando nel 2020, un secondo posto agli europei, il 4 senza, poi andare poi nel 2016 un oro nel 4 con, e poi abbiamo altri secondi e terzi posti tra mondiali e universitari tra il 2017 e il 2018. Insomma, voglio dire, magari è mancato l'oro, però argento, bronzo, quindi inunzio anche essere sempre lì sul pezzo, come si suol dire, cioè arrivare sempre a medaglia, anche per te la stessa domanda, poi è normale che magari è questione di qualche metro, è questione di centesimi, magari tra l'oro e il bronzo, però l'importante è confermarsi sempre a grandi livelli. Tra l'altro stare lì e prendere medaglia ti aiuta tantissimo ad avere uno stimolo in più durante l'allenamento, per migliorarti, per avere anche più fiducia in te stesso, su quello che stai facendo. Poi diciamo che quest'anno dobbiamo migliorarci, dopo l'argento, i bronzi, speriamo di fare meglio. Deve puntare all'oro, questo è scontato. Ragazzi, il modello vostro, voi siete nella categoria ancora junior, sono tanti ragazzi che abbiamo sentito anche le scorse settimane qui, anche prima e dopo gli europei a Varese o alla tappa di Coppa del Mondo a Lucerna o anche a Sabaudia, insomma, gli hanno preceduto dei campioni che puntano sicuramente all'Olimpiade in maniera seria. C'è qualcuno di voi che, insomma, cercate di emulare, di guida? È il vostro faro? Ripeto, il senso dice no, è il mito, no? Una volta forse è molto più facile poter allenarsi insieme al ragazzo e poter rambire a quello che sta facendo lui. Silvia? Ragazzo, ragazzo. Sicuramente le ragazze del doppio pesi leggero italiano, Valentina e Federica, sono un modello a cui ispirarsi perché... Aspetta, che hanno fatto prima medaglia a Lucerna? Hanno preso loro a Varese nel doppio agli Europei. Quest'anno è l'altro corso in Italia. Sono sempre lì e vedremo cosa riusciranno a fare. Quindi ti ispiri a loro, vorresti un domani diventare come loro. Sì. Nunzio? Dalla mia parte, comunque, c'ho il quattro senza segno, anche il due senza che sono entrambi gli equipaggi che hanno preso la medaglia di bronzo e l'Olimpiade nel 2016, che anche quest'anno ci daranno tantissime soddisfazioni perché ci stanno provando bene, stanno andando bene, e quindi la mia idea di canottaggio si ispira tantissimo alla loro. Poi, ecco qua, avendogli anche in squadra nazionale segnalo, avendo l'opportunità di vedere alcuni loro allenamenti, gli prenderò sempre l'esempio. Invece pensavo, Nunzio, che tu mi hai detto io se vieni da Pozzuoli e mi hai si detto Ia Bagnale, però evidentemente sei troppo giovane per ricordarteli. Questa cosa che volevo dire, io ho fatto anche il college due anni a Piediluco, il college di Miniro di Canottaggio, e c'è Agustino a Bagnale che segue ancora adesso il college e mi ha seguito. Il mio idolo per eccellenza, ovviamente lui, mi ispirerò a lui. Però diciamo, per parlare di atleti attuali, atleti che di nostri, diciamo, di quest'anno, mi ispiro all'altro senso. Era una battuta che quando ero piccolo, insomma, li vedevo e sentire quella voce, insomma, un po' oga, un po' di Galeazzi che raccontava le gesta loro, per me è qualcosa di unico. Però è normale che oggi, ovviamente a 22 anni, cercate altri stimoli e altri modelli. Canottaggio che cos'è per voi? E quando avete iniziato, Silvia? Io ho iniziato da piccola quando avevo 10 anni, perché i miei genitori remavano e anche mia sorella, quindi tutta la famiglia a fare canottaggio e sono andata anch'io. A Lago? Sul fiume, a Torino si rema sul Po. Scusami, io ci sarò una cosa, io vengo da Bacoli, che... Pardon, è qui capire dai, conosco il campanilismo e conosco anche Bacoli. Ah, ok, va bene. Quindi è veramente un lembo, un pezzetto di Napoli, fantastica, un porticciolo che ho visitato, è qualcosa, veramente una chicca. sono venuto un paio di volte pure lì a mangiare, è veramente molto bella, quindi so che vuol dire. Quindi ti chiedo scusa... No, non ti preoccupare. Però insomma, fatti i complimenti perché è veramente bello. Grazie. Invece comunque ho iniziato questo sport nel 2013, grazie a Mimo Perna, a cui mando tantissimi saluti, perché sta passando un periodo un po' difficile e quindi siamo tutti vicini. Lui era il mio insegnante alle scuole superiori. Mi vide comunque che era un ragazzo alto, robusto, ben piazzato e mi chiese di praticare questo sport. E quindi poi da lì è iniziato tutto il mio percorso sportivo, grazie a lui. Ragazzi, io so che voi siete per tanto tempo in collegiale, quindi praticamente vedete più i vostri amici o colleghi che dirsi peroglia rispetto alla famiglia. Però c'è qualcosa che fate quando non state a ritiro, quando non pensate al canottaggio, magari hobby, passioni, avete qualcosa in particolare che vi attrae anche fuori, diciamo, il fiume o il lago che sia. Silvia? Boh, comunque visitare nuovi posti è sempre una passione. Il canottaggio ci fa viaggiare abbastanza, però non vi visitiamo i posti che vediamo. Però quando si può si va a fare un giro. Ti piace fare la turista, insomma? Conosce nuovi posti e sei attratta ad altre realtà? Sì. E qual è il posto più bello che hai visitato? Ah, gli Stati Uniti sicuramente. Poi... Sono tanto grandi, una città, un posto... E' a Yellowstone, un parco nazionale. Bello, con Yosemite pure, tutta la parte sotto dei parchi, tra il Nevada, la parte tra Las Vegas e Phoenix, stupendo, tra il Grand Canyon per andare fino a Yosemite, stupendo. Veramente una bella scelta. Approvo. Nunzio? Invece sono un appassionato di calcio, e quindi quando posso... Però devo stare anche attento a non farmi male. Quando posso organizzo sempre con i miei amici una partita. Ah, fare una partita a calcetto. Sì, una partita a calcio. Poi organizzo a buon napoletano, ti fanno anche Napoli. E' normale, è normale, insomma. E' normale, va bene, va bene, ok. Che dici, parentesi europee, visto che parliamo da uno sport all'altro, domani c'è questa partita dell'Italia, visto che sei appassionato, così c'è una digressione da uno sportivo, da un azzurro che parla anche nazionale, col Belgio è tosta. Col Belgio è tosta, però comunque, diciamo che la partita contro l'Austria ci ha aiutato tantissimo, a livello di intensità e di mentalità. Quindi secondo me arriveremo ben preparati contro il Belgio, e direi musicalmente la nostra. Soprattutto se sfrutteremo il gioco, che abbiamo dimostrato fino adesso. Ti piace il tuo insignia? Sta rendendo con l'attritico lì davanti? Bene, bene. Mi sta piacendo tantissimo. Mi sta piacendo tantissimo. Insomma, Silvia, invece, la tua prossima meta, quale sarà dopo il Mondiale? Dove vorrai andare? Ovviamente, pari in pass permettendo, dove si potrà e quando si potrà viaggiare? Non so ancora, perché adesso quando torno devo dare qualche esame e poi vedrò cosa fare. Australia, di qualche anche tua collega che viene anche da là. Evo. È bella, eh. Ci pensi. Che studi, Silvia? Ingegneria meccanica. Ah, bene, una cosetta, insomma, facile. Perfetto, ok. Che anno stai e quanto ti manca? Eh, sono al terzo anno. Vabbè, si è messa anche relativamente bene. Sì, sì. Calcolando che comunque sei molto impegnata anche col canottaggio. Quindi, beh, che ti piacerebbe fare nella vita, visto che hai scelto una facoltà così semplice? No, oddio, non lo so. Non ho le idee molto chiare, però... rimanere sicuramente in quel campo lì anche per adesso c'è, poi iniziare la magistrale e poi vedere. Beh, insomma, ingegneria, complimenti. Certo, insomma, una facoltà molto bella, molto impegnativa pure. Nunzio, tu studi? Io studio, però sono molto, molto a rilento, eh. Non sono Silvia. Vabbè, hai capito. Sono economia, sto al primo anno, mancano qualche esame. Non ho capito, scusa, di cosa? Economia aziendale. Ah, ok, scusa. Vabbè, impegnativa pure per te, eh. Sì, lo so, però comunque sto molto a rilento rispetto a Silvia. Sono ancora al primo anno, mancano qualche esame, mi manca un bel po'. Vabbè, però, l'importante è che anche tu l'obiettivo ce l'hai davanti, insomma, di non mollare, eh. Ah, no, no, questo sicuramente. Sicuramente cerco di portare avanti entrambe le strade, sia quello che ho dato, sia quello che ho dato. Ragazzi, che portiamo dopo il mondiale? Che c'è nella vostra vita? Che altre competizioni ci sono? Il canottaggio, quello che può, che sbocco potrà avere per voi? Silvia. Sicuramente. Beh, quest'anno c'è per noi pesi leggeri, ci saranno poi da fare le selezioni per vedere se si riuscirà a partecipare al mondiale assoluto, e poi dopo si vedrà. Quando sarà il mondiale? È a ottobre. Ok. Nunzio? Diciamo che per noi, diciamo, soprattutto l'ultimo anno, Under 23, dobbiamo tenerci pronti per un'eventuale, diciamo, selezione per una squadra a segno, perché comunque dopo le Olimpiadi ci sarà, diciamo, qualche rinnovamento oppure delle nuove convocazioni. In vista di Parigi. Se capiterà, dobbiamo stare lì pronti e dimostrare subito che possiamo dire la nostra. Ragazzi, un grande bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie a Silvia Crozio, rinunzio di Colla Andrea, Under 23, del Canottale.